Riprendiamo la nostra trasmissione, la casa della salute, incontriamo il dottor Flavio Mantelli, direttore medico della Dompe Farmaceutici. Allora dottore, la società biofarmaceutica internazionale privata Dompe, la storia, quando è nata, come si è costruita? La Dompe Farmaceutici è un'azienda farmaceutica italiana, ha una lunga tradizione, è stata fondata circa 130 anni fa a Milano e ha subito un percorso di evoluzione negli ultimi 10 anni che l'hanno trasformata da un'azienda nazionale privata che si occupava principalmente di farmaci per la tosse e il mal di testa e è arrivata a produrre farmaci innovativi, farmaci biotecnologici per malattie rare a alto fabbisogno terapeutico. Qual è stata la spinta, la grande svolta verso questi farmaci biotecnologici, svolta che caratterizza la Dompe? Il momento fondamentale è stata l'acquisizione dei diritti per sfruttare il fattore di crescita nervoso. È una molecola, il fattore di crescita nervoso, che è la prima delle neurotrofine, che vede delle applicazioni varie nel mondo della farmaceutica, dall'oftalmologia alle patologie neurodegenerative e per arrivare a sviluppare un fattore di crescita nervosa c'è stato un importante investimento dell'azienda nelle biotecnologie, andando proprio a costruire un plant dedicato alla produzione di NGF nel sito dell'Aquila. Cosa significa avere a disposizione per un'azienda, ma soprattutto per un malato, un farmaco biotecnologico? Che vantaggi dà nella cura, nell'assistenza proprio? I farmaci biotecnologici hanno radicalmente trasformato la possibilità di cura dei pazienti, di pazienti con malattie rare, pazienti dove servivano farmaci diretti al meccanismo patogenetico della malattia. Quindi i farmaci biotecnologici veramente sono andati a trasformare la storia naturale di molte patologie. Ha cambiato completamente il paradigma terapeutico. La ricerca di Dompe oggi su cosa punta? La ricerca di Dompe punta in una parola sull'innovazione. Per noi è fondamentale fare innovazione, una innovazione radicale, andare a rispondere a fabbisogni terapeutici, andare sulle malattie che sono orfane di un trattamento valido. Il traguardo clinico, la clinica proprio, l'assistenza medica di cui la Dompe è più orgogliosa, ma è più orgogliosa anche lei? Sicuramente siamo riusciti per primi a portare l'NGF, il fattore di crescita nervosa, al paziente. Questo è stato un traguardo fondamentale per l'azienda perché siamo riusciti a rispondere, a dare una risposta terapeutica a pazienti che non avevano nulla a disposizione. Questo era per una malattia che si chiama geratite neurotrofica, una rara malattia della superficie oculare che porta progressivamente alla perforazione del bulbo oculare. Parte da una piccola lesione della cornea, della porzione anteriore trasparente dell'occhio, che tende progressivamente a peggiorare. Consideri che non c'era nessun trattamento per questa patologia. Oggi può essere trattata con un collirio a base di un farmaco biotecnologico, che è l'NGF, prodotto dalla Dompe all'Aquila. Prodotto dalla Dompe all'Aquila, una ricerca scientifica alle spalle. La Dompe, il biglietto da visita di cui è orgoglioso dal punto di vista scientifico? Beh, arrivare a produrre l'NGF è stato un traguardo scientifico fondamentale. L'NGF è una molecola che è stata scoperta 60 anni fa, anche più dalla professoressa Ritala di Montalcini, per cui ha anche vinto un premio Nobel. E il problema di arrivare a dare un'NGF ai pazienti è stata la caratteristica della molecola. È una molecola che per funzionare deve avere una struttura tridimensionale particolare che gli permette di andare a attivare i recettori cellulari. Ecco, arrivare a produrre questo farmaco è stato estremamente complesso. La Dompe è riuscita a sviluppare la tecnologia che ha permesso di produrre questo NGF farmacologicamente attivo, con la stessa sequenza dell'NGF umano, e che permette quindi di andare a dare una risposta terapeutica ai pazienti affetti, nel caso della prima indicazione terapeutica, che è la gratite neurotrofica, affetti da questa patologia oculare che portava alla perforazione del bulbo. Ecco, una domanda, un'osservazione. La Montalcini ha scoperto questa molecola importantissima alla fine degli anni 50. Il Nobel l'ha avuto nell'89. Le applicazioni sono molto recenti. Come mai questa lentezza ad ottenere il Nobel e alle applicazioni? Le difficoltà quali sono state? Da un punto di vista scientifico ci sono decenni di ricerca sull'NGF e le applicazioni dell'NGF possono essere molteplici. La prima evidenza scientifica della possibilità di uso di NGF in oftalmologia per questa malattia che l'ho detto, la gratite neurotrofica, risale a 1998. Il problema è stato arrivare a produrre un NGF farmacologicamente attivo uguale all'NGF umano, che potesse andare veramente a dare questa risposta terapeutica. Il meccanismo d'azione di NGF va sulla crescita neuronale, sulla innervazione sensitiva della cornea in particolare, che è il tessuto più riccamente innervato del corpo umano. La difficoltà è stata proprio quella, la difficoltà da superare è stata la produzione di un NGF farmacologicamente attivo. Ecco, ricapitoliamo bene. Le applicazioni di NGF oggi, per chi sono, come e quando? Oggi l'NGF è approvato, sia in Europa, sia negli Stati Uniti, anche in Cina, soltanto per una rara patologia della superficie oculare, che si chiama keratite neurotrofica. Questa è l'indicazione ad oggi per il fattore di crescita nervoso. È un prodotto in collirio che produce la dompa ai farmaceutici e le applicazioni, le possibili applicazioni terapeutiche di NGF, invece, sono tutte le malattie dove l'NGF può andare a lavorare sul meccanismo patogenetico della malattia. L'NGF è un fattore di crescita nervoso, quindi sicuramente stimola la crescita neuronale, stimola la reinnervazione sensitiva e è comunque un fattore di crescita pleiotropico, quindi stimola anche la crescita epiteliale, quindi sulla guarigione delle ferite. Per questo, nelle ulcere corneali, nelle ulcere della superficie dell'occhio, ha trovato la sua prima applicazione. La vostra ricerca, come ha fatto a trasformare questo principio della Montalcini, così importante, ad uso topico, immediato nel paziente? Su cosa avete puntato? Che ricerche avete fatto? È stato un percorso di sviluppo classico, ma decisamente accelerato. Su questo le autorità regolatorie ci hanno accompagnato, ci hanno permesso di portare al paziente, in tempi che oserei dire da record, una risposta terapeutica, comunque passando attraverso tutte le fasi di sviluppo. Quindi prima si è dovuta testare la sicurezza di questo collirio nel volontario, poi nel paziente con la patologia, andando a scegliere la dose, e infine andando a confermare su studi più ampi l'efficacia di questo trattamento per andare a portare a guarigione queste ulcere corneali in pazienti con creazione neurotrofica. Ecco, ci sono altre molecole analoghe all'NGF su cui state lavorando, puntando con le vostre ricerche? Sì, l'NGF è il capostipite di una famiglia di proteine che si chiamano neurotrofine. La Dompea, ad esempio, sta lavorando già oggi su una seconda neurotrofina che è il BDNF, il Brain Derived Neurotrophic Factor, che ovviamente attiva dei recettori diversi e ha dei target per patologie leggermente diverse rispetto a NGF. Con NGF curate una malattia rara. Le malattie rare orfani di cura sono ancora orfani di cura. Quanto è importante puntare proprio su queste malattie? È fondamentale. Bisogna portare una risposta terapeutica a tutti i pazienti. Malattie rare orfani di cura, sfortunatamente, ce ne sono ancora molte. C'è bisogno di portare un'innovazione breakthrough. Non basta solo innovazione incrementale per rispondere al fabbisogno terapeutico delle malattie rare. E questa è la differenza. Spesso bisogna partire da zero. Bisogna partire con nuove molecole, nuovi meccanismi d'azione, studi nel volontario. Quindi sono percorsi di sviluppo molto lunghi. Richiedono investimenti importanti. E' importante che ci siano aziende che si dedicano anche a rispondere al fabbisogno terapeutico dei pazienti con malattie rare. Ecco, trovare la soluzione, una cura per una malattia rara ha risvolti etici importantissimi, ma anche risvolti scientifici molto ampi. Cosa significa? Perché? Sì, ha ragione. Fondamentali risvolti etici incredibili, risvolti scientifici importanti perché si arriva a studiare dei meccanismi di azione, si arriva a dedicare un ampio spazio alla ricerca scientifica, alla ricerca di base, che spiega meglio i meccanismi patogenetici alla base di queste malattie rare e possono poi andare a stimolare la ricerca in malattie affini. Quindi è fondamentale che ci sia chi ha voglia, interesse, di studiare e investire in queste malattie così particolari e meno conosciute. Dove producete l'NGF? In quale azienda? In quale settore? Proprio in quale località? E i farmaci che esportate, li producete in Italia, all'estero? Dove? Sì, l'impianto di produzione è in Abruzzo e all'Aquila e siamo orgogliosi oggi di esportare farmaci anche negli Stati Uniti. L'NGF, per esempio, il collirio a base di NGF ha ricevuto anche dalla FDA, l'autorità regolatoria americana, l'indicazione di un farmaco breakthrough, di un farmaco particolarmente innovativo e è stato veramente ben recepito dalla comunità medico-scientifica americana che è molto avvezza all'innovazione, che voleva dare una risposta terapeutica ai loro pazienti. Quindi noi siamo partiti da azienda nazionale a oggi essere un'azienda riconosciuta all'estero, riconosciuta negli Stati Uniti come un'azienda che fa vera innovazione. Di questo siamo incredibilmente orgogliosi. Siete riconosciuti, il vostro farmaco è riconosciuto anche in Cina. Che significa questo? Sì, tutte le principali autorità regolatorie. Ovviamente oggi, grazie alla globalizzazione, i criteri tendono ad essere gli stessi per arrivare a registrare un farmaco nei vari paesi. Quindi in Europa abbiamo un'autorizzazione centralizzata che vale per tutti gli stati membri della comunità europea. Poi è stato approvato da EFD negli Stati Uniti. Poi gli stessi documenti sono gli stessi studi clinici su cui ci siamo basati per produrre la documentazione che è stata valutata e validata dalle autorità regolatorie per portare poi alla prevenzione del farmaco. Sedi della Dompe ci sono anche negli Stati Uniti, nella Silicon Valley. Lei va spesso nella Silicon Valley e che cosa fate? Sì, abbiamo la Dompe U.S., la filiale statunitense della Dompe farmaceutici, la sede principale è a San Francisco negli Stati Uniti e per noi arrivare negli Stati Uniti è stato un traguardo fondamentale perché, come vi ho detto, è un paese che recepisce enormemente l'innovazione. Quindi è stata una scommessa entrare nel mercato statunitense ma ancora prima è stata una scommessa far partire degli studi clinici negli Stati Uniti, farci conoscere come un'azienda con capacità di innovare, con capacità di fare ricerca clinica, ricerca farmaceutica di altissimo livello e quindi per noi la presenza negli Stati Uniti è stato il primo step per l'internazionalizzazione dell'azienda ma è stato anche veramente un momento trasformativo perché ci ha veramente cambiato. Fare ricerca, studi negli Stati Uniti significa avere una marcia in più in qualche modo, avere più possibilità? Avere più possibilità sicuramente. Fare ricerca clinica negli Stati Uniti oggi è un aspetto fondamentale per aziende che lavorano nel settore delle biotecnologie, che lavorano nel settore delle malattie rare, che lavorano su una innovazione che vuole portare nuovi farmaci, farmaci che rispondano a patologie orfane di cura. Ecco, è fondamentale lavorare anche con gli Stati Uniti. La nostra ricerca, i nostri studi clinici sono sempre studi clinici internazionali, sono studi clinici che si svolgono sia in Europa sia negli Stati Uniti. Negli anni del Covid, in questi ultimi anni, avete subito un rallentamento, una frenata o avete continuato in ricerca e in produzione? Per fortuna, nel nostro caso, l'azienda è stata impegnata anche nello sviluppo di studi clinici per pazienti affetti da Covid-19, in particolare per complicazioni respiratorie da Covid-19. Quindi la ricerca e sviluppo della dompaia farmaceutica non si è fermata. Ovviamente nelle altre aree terapeutiche c'è stata una fase di rallentamento, non dire di arresto, perché comunque c'erano difficoltà pratiche. L'accesso dei pazienti agli ospedali per partecipare agli studi clinici era una difficoltà concreta. Ma il Covid-19 è stato un esempio di quanto l'azienda farmaceutica, ma anche quanto le autorità regolatorie, possono collaborare e lavorare insieme per accorciare i tempi di sviluppo e valutazione dei farmaci. C'è stato un impegno globale delle aziende e delle autorità per portare per il Covid-19 una risposta ai pazienti. Ma questo secondo me aiuterà anche in futuro la ricerca clinica e la ricerca farmaceutica. Il momento più difficile negli anni del Covid, qual è stato per voi? Sicuramente negli anni del Covid ad esempio stavamo chiudendo dei trial clinici per altre patologie e è stato veramente complicato riuscire ad arrivare a completare questa fase di sviluppo clinico e per noi era un impegno fondamentale, un impegno che ci avevamo presi con la comunità scientifica, un impegno che ci avevamo presi con i pazienti. Non ci saremmo mai fermati, sicuramente il Covid ci ha creato qualche difficoltà in più. Lei coordina un gruppo, un team fra l'Aquila e San Francisco. Com'è possibile lavorare con un piede di qua e uno di là? Crea difficoltà o è un incentivo, una spinta? È un incentivo incredibile perché avere competenze così varie da il mio team non solo persone in Italia e persone negli Stati Uniti ma abbiamo ricercatori che vengono da diverse nazioni, hanno diverse nazionalità e portano competenze diverse. Ecco, nella ricerca è fondamentale avere tante competenze e far collaborare persone con competenze di altissimo livello, competenze diverse perché solo così si può arrivare a raggiungere dei traguardi importanti. Il singolo oggi nella ricerca scientifica, nella ricerca farmaceutica può far poco. Servono team di questo tipo. Io sono orgoglioso di avere un team internazionale e di lavorare con colleghi anche degli Stati Uniti e questa diversità sta facendo la differenza, secondo me. Come è vista la dompè italiana, la dompè dell'Aquila, il centro dell'Aquila, dai ricercatori della Silicon Valley della California, così internazionale, in una città storica come l'Aquila, tradizionale, come è percepita questo per questi grandi scienziati che si trovano così internazionali formati in California? Devo dire che l'apertura mentale dei ricercatori e degli scienziati della Silicon Valley è incredibile. Loro sono abituati ad andare a cercare il meglio dell'innovazione, il meglio della ricerca ovunque nel mondo, non importa da dove proviene. Nel caso specifico della dompè abbiamo ricevuto un'accoglienza splendida, devo dire, e questo perché comunque siamo riusciti a entrare negli Stati Uniti con un risultato importante, con una ricerca scientifica, una ricerca medica clinica e farmaceutica che ha dato una risposta terapeutica dei pazienti che non avevano una cura. Questo ha fatto la differenza, questo è stato un biglietto da visita importante che oggi ci fa riconoscere veramente come leader almeno in un settore specifico della ricerca e ci fa riconoscere negli Stati Uniti eravamo un'azienda italiana, siamo un'azienda internazionale e questo tutto grazie all'innovazione che siamo riusciti a portare al paziente. Che consigli darebbe ad un giovane che vuole iniziare impegnarsi nel campo della scienza, della ricerca? Credo che la parola impegnarsi sia la parola fondamentale. Il mio consiglio è sempre quello di impegnarsi al massimo ma soprattutto di cercare un settore della ricerca scientifica che è amplissima, un settore di particolare interesse per andare a sviluppare conoscenze uniche perché così si fa la differenza e soprattutto con l'umiltà di riconoscere che si può fare la differenza solo poi trovando dei collaboratori che hanno conoscenze complementari che quindi possono portare veramente a dei risultati scientifici che facciano la differenza per la comunità scientifica, medica e per i pazienti. Negli anni prossimi cosa vorrebbe vedere realizzato nel campo scientifico? Questa è una bella domanda. I sogni di chi fa sviluppo clinico e sviluppo farmaceutico sono tanti. Per me sarebbe fondamentale continuare a investire in patologie orfene di cura, continuare a portare soluzioni terapeutiche a pazienti. Credo che il traguardo di cui sono più orgoglioso da quando lavoro in azienda farmaceutica è stato proprio quello di riuscire a portare una risposta terapeutica a dei pazienti che non avevano una terapia, che non avevano una cura per la loro patologia. Vorrei vedere non solo da parte della Dompe ma da parte di tante aziende un impegno volto a dare questo tipo di risposta terapeutica perché fare la differenza nella vita delle persone portandogli una cura per un loro problema è una soddisfazione incredibile. Anche per oggi abbiamo finito. Ci rivediamo la prossima settimana con altri argomenti di medicina. Arrivederci.